Cremona si prepara a festeggiare l'ultimo giorno di questo 2017 e lo farà con il Capodanno di Gusto in Piazza Cremona, un evento promosso dal distretto urbano del commercio. La serata costerà 15.000 euro tra palco, band e gestione della sicurezza, che viste le nuove e comprensibilmente più rigide prescrizioni di legge, è diventata un'importante voce di bilancio. Previsto dunque un servizio safety con la presenza di 10 steward e naturalmente blocchi di cemento a blindare ogni accesso. Nei giorni scorsi intanto vertici in prefettura per programmare la presenza delle forze dell'ordine che garantiranno un presidio pressoché totale del centro cittadino. La serata inizierà alle 22.30 per concludersi verso mezzanotte e mezza dopo il brindisi che accoglierà il 2018.